Station, pingan pognavido Ma sei schifo, perchè la? Dai fammolo così cattivo, una volta nella vita, non l'ho mai fatto, dai! Va bene, dai! Che? Il telefono che suena! Sul tetto proprio, regalo Dai, ma sul tetto poi devi toccare scendere Sì, sì! Bella il necrosi! Bella la maschera! Oddio! 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 Bella da Dio! Sbora addosso! Bella da Dio! Mamma mia, dove stai? Ti rompo il culo! Vieni qua! Oddio! Oddio! Voglio sborarti addosso! Ce la fai, Federiano, fatta ammazzare nei primi due minuti del gioco? Nemico in discesa nell'area operativa! Ah, c'è un nemico sul tetto! Andiamo a fare subito! Abbiamo un nemico in discesa? Sì, si, vado a fare subito una sorpresina con necrosi, va! Dov'è questo nemico? Dai, scenni, va! Scenni, ma andiamo a farmare sotto! Prossimo obiettivo localizzato! Oh, eccolo! Federini! Ah, chi è questo? Ah, è Sandro! Grazie! Lo stai sceso? Si è buttato da sotto? No, l'ho ammazzato! Eccolo! Vedi, guarda il cadavere! Sparai addosso! Merda! Pitturalo! Elicottero al centro, ti lanciamo, fammelo qui dentro! Farmiamo, farmiamo! Vieni a farmare come un cane! Mi sento positivo e propositivo! Ci mancherebbe! O HIV positivo, secondo te come la puoi vedere! Allora, io vado a farmarmi queste casette qui che... Ah, già se le è fatte qualcuno! Ma no, vieni sotto, che sotto qua è grosso da farmare! Ecco, mi entro! C'è un botto di roba! Io so i dentro, prendo subito... Anzi, accollatevi questo che è top! Che è? Eh, ma non lo shopperemo però, perché cadrà! Porco Dio! Che ha fatto? No, mi fa passare! Andiamo... Andiamo come i leprotti? Dove? Sotto! È ora di sborrare un attimo, andiamo! Oh! Oh! Bello del Dio! Bello del Dio! Spagno! Come godo! Allora, ruba tutto! no 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 con i poveri cani dai 10k 10 bellissimi k ma dov'è sandro? stai qui stai buscando la farigna bello da dio quello fa cagare da dio borrar 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 ed un malloppino di soldini no mattatela bravissimo senti ma ho il sciagallo? ecco stanno a sparare ragazzi dove sta sparando? eh non lo so dammi un cardanico guardami sopra dimmi dove dovrebbe verso 2.56 2.56 ecco eh sì stanno pure minaccia 2 quindi io mi metterei noi ce li sborriamo non hai capito eh sono forte dov'è? venitemi a proteggere brutti cani io sto da sopra ti proteggo da sopra se arrivo ti vedo so dove sei stai tranquillo ok io inizierei anche a riflettere sulla prossima destinazione le lucubre le lucubre or dunque se mi cecchinano dalla sono morto ok oh no Federico non mi vetturare ci appropriamo? aspettiamo il lancio lo direi no no sì cioè per la prima volta nella vita mi sono preso train station incredibile capito sì quando giocani forti quando non giochi con Enrico ti hanno guardato inermi questa cosa che mi hanno nerfato l'RPG da qua sopra non mi sembra di vedere nessun finocchiaccio neanche quei palazzi lì quello lì donda pingami è to ping non ce li ho sotto ma dall'altro palazzo così te lo dico perché io sento che da lì si stanno sparando bene andiamo andiamo a vedere sento sparare a destra esatto quindi dove ci dirigiamo cari adesso aspettiamo che mancano 50 secondi attendiamo il lancio e vediamo dov'è così assolutamente ecco dentro questo palazzo là dentro secondo piano ah ok quindi avevo sentito bene quindi non andiamo di là direi direi che andiamo di qua però aspettiamo aspettiamo il lancio e ci hanno tirato pure in un A B quindi loro sanno ma anche noi sappiamo che sono lì anche perché stiamo pieni di soldi e ti pareva proprio là sotto porca madonna ladra lasciamo per adesso lo compriamo una marverde no non so comprata è bravo dai andiamo e dove andiamo scusa io vado a prendere l'equipaginamento a crudo così va bene si dai andiamo a crudo vieni fe vieni fe no andiamo a crudo di pesce vado io se moro va bene così è bello gioco ah siamo protetti preso preso continuo me lo fa prendere voilà via procediamo ok che stanno oh team eliminato non ti preoccupare ho fatto tutto bravissimo questo castabestia io ho tirato un faccia ercoso qui andiamo ragazzi però eh si sto mettendo le piastre ti stiamo aspettando eh dai eh no che mi stai aspettando andiamo lungo c'è anche a questi capannoni però e dove vuoi passare dai vai vai seguo te seguo te sei il mio matador della soreca andiamo 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 più o meno dritti occhio a quelle case a destra che qui i tetti qua ce l'abbiamo ovunque le case venite venite entrate entrate qua sto controllando fuori vedendo il negozio se c'è qualche malandrino ecco eccolo eccolo l'hai visto il malandrino si si stanno andando al negozietto il malandrino è lì quindi io direi ok però dobbiamo andare andiamo cari concentrati se bisogna sborrare si ingaggia subito entra entra qua dentro guarda i soldi che ci avevamo no io sto fermo spagno non essere goloso no andiamo andiamo dai che sta arrivando il gas via oh porco dio sta arrivando il gas davvero ecco attenzione metrucidano via 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 ignora 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 e sto a morire e sparate e sparate chi è il verde ma te vieni vieni lascio stare occhio e qui ci sparano dai fottute pareti eh lo so lo so lo so attenzione a chi macchina a destra code aspetta qua c'è shop 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 un av qualcosa sei morto spagno dai te rianimo ok andiamo andiamo ok andiamo ho comprato l'uav e ho comprato un bombardamento tiralo subito l'uav tiralo subito vediamo un po' prima di andare perché qui è brutta è eccoli oh dio scusa no scusa ero io no me sono sbagliato ho preso solo cosa il bombardamento non l'uav compralo te compralo te se c'hai sordi vado a comprare lo shop qua se ci arrivo ok qui è zona malandrina eh muta la prendi qua aspetta ok capo serve un ricognitore qui jaguar 3 0 confermato fattuglia 21 ok capo io saliamo qua sopra vieni sandrino guarda io andrei dritto sei sopra la brugliera ma a te dove là mezzo agli alberi dove tutto a inizio e dove tutto a fine andiamo a cercare di stare più in alto e anticipare infatti porco dio eh eh perché c'è gente c'è gente attenti alla macchina muoviamoci lesti guarda come mi si fanno adesso oddio mi si fanno attenzione a questo shop pulito attenzione a chi che ti sei comprato fedeli allora occhio qui che potrebbe esserci 3d tutto infatti senti già sparano sì attenzione al palazzo sì ma non noto nulla sono tutti i fantasmi tranne te occhio un attimo attenzione attenzione mi accentro in modo arrogante con calma con calma apri qua vedri che c'è una cassa eh però siamo ancora troppo poco pronti a combattere non passerei là dentro attenzione a ste casette allora ci stiamo dirigendo all'inferno di hills esatto andiamo un po' carcola ce l'abbiamo qua a 280 e verso promenade sì l'avevo visti prima quindi noi andiamo dritto tipo la la casetta la la vedi la vedo la vedo la vedo vediamo se siamo fortunati non c'è nessuno magari vado prima io se muoio poi vuoi ripiegare vieni fe anzi faccio sai che faccio prendo la macchina e faccio il merlo da solo aspettate ok fai il merlo io attendo qua merlo sono merlo non si rapa nessuno apri un po' questo via del sensore eccoli eh 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 perfetto stanno sulla casa quale? su questa la macchina dove ho lasciato la macchina? tu hai lasciato la macchina? quindi là da federico? hai ilsa hai ilsa e dove entro? stanno tipo qua sotto raga è il palazzo a fianco al boss a destra ok sono sul tetto poi morto ok vabbè ci abbiamo i soldi aspettate un attimo che vi dico allora sono qua sopra raga proprio su quel tetto quale? l'ho pingato quello? quello blu ok quindi da qua non ci vedono federino è molto attenti di dietro ecco vedi ci ha tirato l'RPG qui mi sparano allora eh tu si andate per me subito dritto per dritto andate qui a alle case quelle distrutte in costruzione scusa eh non è mica su quelle là quelle blu ah hai ragione o cercare ragazzi di sotto sul bordo dobbiamo andare dobbiamo andare per bordo sull'acqua che ci sta lo scalino sotto lo potete appizzare però dovete andare dritti e poi scendere seguendo la strada vai dritto per dritto corri corri vai corri sopra il muro bravo dritto per dritto al blu no a destra a destra a destra come al blu al verde al verde scusa però devi tagliare un po' perché sennò ti vedono gli altri dall'altro palazzo bravo così sinistra 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 spagna sinistra spagna sinistra dritto no bravo freddo notteo mi è andata oltre il guardrail bravi ma sei sicuro? vai vai ma ne che moriamo? ci sono vinta una così eh non casca d'acqua però ora vi accentrate vi mettete dove ci dovrebbe essere un pilone più avanti che è un posto per nascondersi vai un po' più a sinistra spagna eh lo vedi pure in questa conchetta qui ti vedranno mai ecco qua sotto a sinistra dove ci sta questo rialzo qua qua? dove sta andando Matteo bravo qua là sotto là sotto non c'è se non è quello allora ma da qua da qua ci si fanno è più avanti è più avanti è più avanti continuano davanti qua eh no vedi qua perfetto la spagna la spagna è perfetta frate torniamo indietro spagna ecco qui ti vai pizzare sdraia vedete eh perché qua se passano cecchino siamo gripati dove vede eh i sordi ce li abbiamo no ma sta lontano raga o shop dove sta infatti o shop allora aspetta fammi una cosa ti apriete i sordi o shop sicuro c'è qualcuno raga sono solo 24 persone cercate di vincere così eh ma però così mi piace spagno all'avventura eh sì per forza devi partire dai ah ma te volete partire no no io attendo tanto si chiude qui raga esatto dato che si chiude là vedi qua ci stanno ste casette 10 è pure il lancio se te riesce a tirare su devi pure il lancio se andri perché il brutto di questo posto è che qua se ci arriva un cecchino da lì ti si fa subito per termine corri corri via qua via qua dove pingo che te fai il lancio sto prendendo c'ho visto il lancio spagno tu provanna qua ar verde e vedi se c'è gente cartesio vai leprotto leprotto vai al verde e vedi com'è se non c'è se non se non c'è gente com'è com'è il verde sandro il verde è vuoto ma è in garage meglio che niente però di fianco c'è una casa aspetta vedo dentro la casa ma fantasma ce l'abbiamo tutti io ce l'ho sì questa casa è vuota casa vuota quindi ok questa la difendiamo con i denti ce l'ha un piano di sopra sì perfetto qua per trofi ce l'avevi togli i due dell'ispagno che te sparano da dietro sicuro ah bravo scusa non ho visto scusa che dolce ragazzo che sei un bravo spagno ma no dove vai occhio che potrebbero lanciare i ac4 del cazzo dai finestre come al solito esatto se ci imbucca origa scendiamo subito sotto dai finestre non aspettiamo lì dentro bello addio addio ora ora subito io pure c'ho un attacco mi muovo io chi fa la lepre io io come al solito mi piace fa la lepre dritto per dritto non c'è nessuno si fai da avanti a sinistra via vieni spagno andiamo insieme spagno eccoli ce ne abbiamo a sinistra diventiamo dei cespugli la stazione di benzina stanno a sinistra stanno a sinistra mi muovo la gioco eh ma quella casa è la metà che è piena di gente si ah io faccio così riga tira un rpg dentro quella casa e ci entriamo dai prova via andiamo ci saranno un po impauriti sembrerebbe che non ci sia nessuno vuota infatti bravi sono solo 9 raga questa la difesa coi denti qualcuno non va giù per cercare non morire tutti vado io vado al cesto guarda guarda è bravo spagno guarda che poi spagno tiriamo i bombardamenti appena si richiude il cerchio bombardamento al centro ok ora ora aspetta che rientra aspetta che entrano aspetta che entrano nella safe aspetta un attimo ok intanto acchittate gli ritiriamo tutte e due e gli sbracamo sotto non morì vai 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 Sandri tira su tira su tira su ma giornate sulla situazione a terra perfetto ammazzati tutti eh spagna mi dispiace fuori 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 dove 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 no non ce la posso era un sensore di battito del cazzo oi 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 cerchio sta nel gas perché gira perché gira e quindi che demo fa adesso gira al cerchio aspetta piano piano inizia a girare e noi lo seguiamo dove sono questi puttanelli di merda dove cazzo sono porco di dio terra colpa testa di magnetato se in grande seguiamolo sento tossire io la maschera notte che muore date che muore date che muore tagli e cazzo la soffio della mignotta e giocatori questa è tutta dedicata a gabbo i team veri sono solo questi gli squadroni becca di questa gabbo abbiamo uno spagno ragazzi tutta tattica grandissimi 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 pagato una bella giornata verso nazca un pommino a piedra lada grazie a tutti grazie a tutti